L'amministrazione comunale di Teramo ha incontrato i commercianti per tornare a parlare del piano parcheggi anche alla luce dell'affidamento in gestione delle strisce blu ad una nuova società. Abbiamo convocato un incontro con i commercianti proprio per fare il punto sulla gestione della sosta, in particolare in centro storico. Oggi è possibile mettere in campo un piano perché governiamo dopo tanti anni, grazie ai risultati straordinari che abbiamo ottenuto, il sistema dei parcheggi. Abbiamo riacquisito di fatto il controllo amministrativo di Piazza Dante, abbiamo concluso la procedura del project aggiudicando la gestione dei parcheggi blu e quindi ci sarà un'interlocuzione che è partita e che verrà intensificata proprio con i commercianti, con il nuovo aggiudicatario e riallacciato un'interlocuzione proficua con i gestori dei cosiddetti megaparcheggi che devono essere valorizzati. Qualche commerciante torna a ribadire che alla luce di queste novità è sempre il centro storico ad essere penalizzato e dunque il commercio del centro storico di conseguenza. Tutt'altro, Teramo si sta trasformando profondamente. Con il progetto Teramo si rigenere, la ricostruzione che sta vedendo fortemente la luce, soprattutto quella privata e soprattutto in centro storico, Teramo 2026 non è un libro dei sogni, è già in atto, lo stiamo costruendo e stiamo programmando una città che è definita e che sarà rilanciata grazie ad opere straordinarie che abbiamo annunciato, previsto e già finanziate. Ci muoveremo con grande gradualità. E loro cosa vi hanno detto? C'è preoccupazione inevitabilmente perché comunque un cambiamento così forte e così importante richiede necessariamente un tener conto della prospettiva che noi abbiamo già costruito e definito è pianificato, una Teramo città-capoluogo che deve tener conto delle difficoltà anche del presente. Il mercato del sabato non verrà mai tolto dal centro storico. Ogni rimodulazione, miglioramento, rivisitazione non comporterà mai l'eliminazione del mercato dal centro storico. Questo è un po' un tema di cui ieri si è parlato ed è forse anche un equivoco che si è sviluppato. La rimodulazione non porterà mai un spostamento dal centro storico. Questo è molto importante.